Fredi Pacini, il gommista di Monte San Savino, che lo scorso novembre aveva ucciso il ladro che nel cuore della notte aveva fatto eruzione nella sua azienda, cambia difesa. L'imprenditore non sarà infatti più assistito da Giacomo Chiuchini. Al suo fianco resta invece l'avvocato Alessandra Kelly. Alla base del cambio di rotta ci sarebbero delle divergenze di vedute sulla strategia difensiva da adottare. Ad oggi Pacini si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere. Il gommista è indagato per eccesso di legittima difesa. Nella notte tra il 27 e il 28 novembre scorsi esplose cinque colpi di pistola contro Mircea Vitalie, il giovane moldavo di 29 anni che si era introdotto all'interno della sua azienda di Monte San Savino, uccidendolo. L'imprenditore da qualche anno dormiva all'interno del capannone esasperato dai furti subiti. A breve saranno inoltre depositati in procura i risultati dell'autopsia eseguita sul corpo del giovane moldavo. Prosegue anche la complessa perizia balistica sugli spari esplosi dall'imprenditore. La prossima settimana ci sarà un confronto sui risultati tra il consulente incaricato dalla procura Pari de Minervini e quello della difesa Andrea Allegri. Il consulente della procura dovrà inoltre consegnare la sua relazione entro il 28 febbraio. La perizia dovrà stabilire la traiettoria dei proiettili esplosi da freddi pacini. Ancora invece non è stato svolto il sopralluogo con tutti i consulenti all'interno del capannone di Monte San Savino, dove lo scorso novembre si era consumata la tragedia.